Sabato 23 luglio 2022 avremo di nuovo la Notte Bianca con otto fermate eventi. Avremo white bus, le navette che collegheranno le otto aree eventi come nella tradizione delle feste della Notte Bianca. Ci saranno concerti, attività per i bambini, DJ, ci saranno dimostrazioni di ballo, aperitivi, cene, cene di pesce, di carne. Insomma una nottata ricca di eventi ed attività enogastronomiche. La Notte Bianca è una ripresa anche di un'attività, dell'attività commerciale, dell'attività musicale, dell'attività di divertimento, anche con l'obiettivo di tenere i ragazzi in questo territorio e di vivacizzare anche le attività commerciali che sono di buon livello. Quindi ci sarà enogastronomia, ci sarà svago, divertimento, si starà insieme. Ci sono i pullman che danno la possibilità anche alle persone un po' più grandi di osservare la nottata, la serata di tutto il territorio. È un segno anche di ripresa, di vivacità e di un superamento di questa fase di quasi due anni del Covid. è un segno anche di ripresa, di vivacità e di vivacità.